Ben trovati, mi chiamo Erika Girolimetti e sono una docente del liceo artistico di Fano, appartenente al liceo Nolfio Polloni. Perché scegliere di iscriversi al nostro liceo? Chi sceglie di iscriversi al nostro liceo artistico decide di coltivare la propria creatività, senza però rinunciare ad una solida preparazione culturale che avviene attraverso le materie liceali che caratterizzano il percorso di studi. Al liceo artistico a Polloni ci siamo dati tre parole chiave. La prima è pensiero. Cerchiamo di insegnarvi a pensare in modo critico, analizzando la realtà che è fatta di segni, forme e parole. E questo per sviluppare una dote molto utile nel mondo contemporaneo, la creatività, ovvero la capacità di trovare soluzioni personali e inusuali ai problemi posti. Infine la terza parola è progetto. Quasi mai una produzione artistica, infatti è frutto di un'ispirazione estemporanea. Serve invece imparare a lavorare con metodo e dunque un progetto artistico si sviluppa attraverso una fase di ricerca iniziale che approda ad una fase inattiva in forma di schizzo e perviene infine ad una soluzione concreta creativa in base agli indirizzi di pertinenza. Perché parlo di indirizzi? Perché all'interno del nostro liceo artistico sono presenti cinque indirizzi o sezioni tra i quali sarete chiamati a scegliere a partire dalla terza e questi indirizzi sono l'indirizzo di arti figurative, architettura e ambiente, scenografia e due indirizzi di design, ovvero design dell'arredamento e design dei metalli e dell'oreficeria. Qual è la specificità della nostra scuola? Circa metà del nostro orario è dedicato a attività laboratoriali e dunque dedicato all'arte. Imparerete a disegnare, ad esprimere le vostre idee secondo vari linguaggi artistici. A questo fine sono fondamentali nel bienio iniziale le tre materie formative di base che educheranno la vostra capacità di osservazione per elaborare un pensiero capace di guidare la vostra mano e queste discipline sono le discipline grafico-pittoriche, le discipline plastico-scultore e le discipline geometriche. Si tratta di tre materie trasversali ai cinque indirizzi attivi presso il nostro liceo artistico dei quali farete esperienza di questi indirizzi in prima e in seconda con la formula del laboratorio orientativo che prevede un'ora settimana. Poi a partire dalla terza dovrete compiere una scelta esclusiva e specializzarvi dunque in uno solo di questi indirizzi che vi ripeto l'indirizzo di arte figurative, architettura e ambiente, scenografia, design dell'arredamento e design dei metalli e dell'oreficeria. E quali possibilità al termine del percorso di studi? I nostri studenti potranno compiere qualsiasi scelta. Molti dei nostri diplomati decidono di proseguire nel solco della formazione artistica, iscrivendosi quindi ad accademi di belle arti, alla facoltà di architettura o ai vari istituti di design, mentre altri pur contenti del percorso svolto decidono di iscriversi alle facoltà tradizionali ed ecco che abbiamo studenti iscritti a lettere, a lingue e addirittura qualcuno che si è iscritto a chimica. E c'è un numero crescente di ragazzi che decide anche di proseguire i propri studi all'estero. Infine il nostro liceo offre anche il vantaggio di sviluppare delle capacità pratiche che sono spendibili nel mondo del lavoro e dunque sebbene ci auguriamo che tutti i nostri studenti vogliano e possano proseguire gli studi potranno anche promuoversi per qualche attività lavorativa. Vi invitiamo a venirci a trovare i nostri Appenday e vi auguriamo una buona scelta.